Buonasera a tutti, siamo ad Aosta e ci stiamo per salire sul campanile della chiesa di Sant'Orso e ci apprestiamo a visitare questo concerto di 12 campane. A macchina cinepresa c'è il nostro presidente, tanto io mi accingo a salire. Cari amici ed amiche della Genova Carino, buonasera, il 27 novembre del 2010 ci troviamo sull'antico campanile di Sant'Orso ad Aosta. Io personalmente mando gli auguri a Federica Clerici di Bulgaro Grasso, all'amica Patrizia Ferrando di Voltri, con la quale ho diviso tanti anni di scuola, Anna Parodi, Beatrice Canessa, Luca Zerbini, tanti amici di Voltri. Lei deve mandare qualche saluto? Tutti i miei compagni, tutti i professori. Eccati tutti quelli che mi conoscono. Pure io, anche i campanari che ci conoscono. Vi faccio sentire il suono di questa campana, fusa nel 1589 in Francia. Che nota è signor Riccardo? Si, si e si bemole. Un caro saluto da Aosta, dal campanile di Sant'Orso. Arrivederci a tutti e buone feste. Qua ci fa un attimo? 1973 Grazie a tutti. Grazie a tutti.